Ci sarebbero quattro indagati per la morte di Lorenzo Santini, l'aretino di 49 anni morto lo scorso sabato nella piscina Pantano durante una sessione di nuoto libero. Si tratterebbe del titolare della struttura di tre collaboratori. La PM Francesca Eva avrebbe configurato come ipotesi di reato quella di omicidio colposo. Ed intanto trapelano le prime indiscrezioni in seguito all'autopsia eseguita dall'equip di medicina legale dell'Università di Siena sulla Salma dell'Uomo. Il 49enne sarebbe deceduto a seguito di un malore. Avrebbe ingerito anche l'acqua della vasca nella quale stava nuotando. Non è chiaro però se l'uomo abbia accusato un problema cardiaco o cerebrale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Gli avvocati degli indagati hanno nominato alcuni medici legali come consulenti tecnici di parte che hanno assistito alle operazioni del professor Mario Gabrielli. L'allarme era scattato lo scorso sabato nel tardo pomeriggio. La dinamica della drammatica vicenda è al vaglio degli inquirenti che dovranno far piena luce su eventuali responsabilità e chiarire se la vita di Santini poteva essere salvata e in particolare i tempi di intervento. A recuperare il corpo dall'acqua sarebbero stati i vigili del fuoco al loro arrivo. A recuperare il corpo dall'acqua.